Musica Musica Ascoltà Pietrolino, cosa dirti una bella roba? Cosa dirti che so, so tanto innamorà Beh, cosa ridis tu? Vuoi innamorà? Dove ho una bella faccia di innamorà? Eh sì, una bella faccia da Pantecanale Ma come ti permetti, aseno? E di chi sei innamorata? Eh, madonna Hortensia E adesso ti vado a portare questo bel sonnetto che ho scritto stamattina all'improvviso Ah, previso? All'improvviso! Ma gente, sei soldo poi, dammela avanti Eccola qua Ci farò qua, e adesso ti vado a portare No, 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 meno che la porto E perché? E' perché sei tre mesi che non mi hai pagato E noi siamo d'accordo su un salario minimo E cioè? Zero E noi siamo vedi qua bisogna mettere qualcosa di più di più sano. Ah ma su schiappuccia? Ah schiappuccia non mi pensi a far male. Se mi faceva male andavo in letto. Se andavo in letto vedi il medico? Il medico era la medizina. La medizina viene da Levante come tutti i venti, come diceva Aristotele. Aristotele era il maestro di Alessandro Magno. Alessandro Magno governava il mondo e il mondo lo sostiene Atlante. Atlante è una gran forza. La forza la si pittura con le colonne, le colonne che sui palazzi, i palazzi li fanno i muratori. E i muratori chi gli dà il disegno? I architetti. L'architetto fa il disegno, il disegno è un'arte liberale. La terra perché la dava i frutti bisogna ararla e per ararla che poi i bo, i bo dopo gli si passa, lì si mangia la carne, la pelle la si consa, con la pelle consata si fa le scarpe, le scarpe sempre per i piedi, i piedi per camminare e camminando mi sono scampucciato. E sono arrivato qui ma solo per dirvi il mondo. di Alessandro Magno. 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 Alessandro Magno. di 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 Alessandro Magno. Grazie a tutti. 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 Volevo solo dire, a questo punto forse ci meritiamo una qualche ricompensa. Che dice? Che dite? Facciamo un franco o qualcosa? Non abbiamo niente? Senta, io non ho quattrini, ma una cosa in natura va bene? Oddio adesso, maestro, per carità, abbiamo incastrato, signor... Cosa ti raffa? Sì, qualcosa c'è. Sì? Sì? Un po' l'astretto. Oh! Beh, come dicono al portello, meglio che una caricata sui denti, vero? Beh, come dicono al portello, meglio che una caricata sui denti, vero? Cosa ti raffa? Beh, come dicono al portello, meglio che una caricata sui denti, vero? O che soffre O che soffre O che soffre